Grazie a tutti. Bene, prendo l'argomento un po' da lontano, sia chiaro, può darsi, ma sono sicuro che molti di voi non saranno d'accordo con quello che io dico, ma diceva un filosofo americano, un filosofo e matematico, Whitehead, che uno scontro tra idee non è un dramma, è un'opportunità. Quindi il dissenso, se c'è dissenso io sarò ben lieto. Prendo la questione da un po' da lontano. Quando noi parliamo di scienza, intendiamo come filosofi della scienza guardare soprattutto in che cosa consista questo metodo scientifico. Bene, vi leggo un pensiero di Popper. Dice Popper, la mia concezione del metodo della scienza è semplicemente questa. Esso sistematizza il metodo per scientifico dell'imparare dai nostri errori. Lo sistematizza grazie allo strumento che si chiama discussione critica. Tutta la mia concezione del metodo scientifico si può riassumere dicendo che questo consiste in questi tre passi. Primo, inciampiamo in qualche problema. Secondo, tentiamo di risolverlo ad esempio proponendo una qualche nuova teoria. Terzo, impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono ressi presenti nella discussione critica dei nostri tentativi di risoluzione. O per dire in tre parole, aggiunge Popper, problemi, teorie, critiche. Credo che in queste tre parole, problemi, teorie, critiche, si possa riassumere tutto quanto il modo di procedere della scienza razionale. Cioè quando noi facciamo ricerca scientifica, sia in fisica, in biologia, ma anche in economia, poi vedremo anche nell'interpretazione di un testo, noi tentiamo di risolvere un problema e questo lo fa il fisico più elevato e lo fa semplicemente anche un ragazzo che qui a San Carlo deve discutere, svolgere, sviluppare una tesi di dottorato. Ma questo capita anche nella vita quotidiana, noi inciampiamo continuamente in problemi. Ora, qual è l'idea, che sto sommando non solo di Popper, ma dell'intera epistemologia contemporanea? L'idea di fondo è questa, davanti a un problema noi non possiamo fare altro che scatenare la fantasia creatrice di ipotesi. Come diceva Leibniz, noi inventiamo questi monti possibili, sperando poi che uno di questi monti possibili possa catturare quel pezzo di realtà che il problema ha portato a galla. Quindi, problemi, ecco, si dice creatività nella scienza, cosa vuol dire creatività? C'è questa fantasia creatrice di ipotesi, di questi monti possibili. Ma ecco, vengo a un punto che forse è un po' centrale in questo discorso che faccio questa sera. Ecco, tu dicevi, appunto, controllare le idee. Cosa fa lo scienziato, serio? Cioè, appunto, prende, inciampa nel problema, formula delle ipotesi che poi va a controllare. Allora, noi diciamo spesso che quando abbiamo un'ipotesi, un'idea, la dobbiamo verificare. Ora, una cosa importante non sono le parole, però, diciamo così, quello che conta è vedere cosa tecnicamente facciamo quando noi controlliamo un'ipotesi, perché verificare, proprio lessicalmente, significa vera, facere, teoria. E come verificare, fare il vino, panificare, fare il pane, verificare, fare il vero una teoria. Ora, noi, per ragioni logiche o matematiche, non possiamo dimostrare vera nessuna teoria. Cosa facciamo, in realtà, quando abbiamo una teoria, ripeto, in qualsiasi ambito della scienza, sia chiaro, Carlo, eh? Ecco, noi, diciamo, la controlliamo. E come controlliamo la teoria? Lo facciamo spesso nella vita quotidiana, anzi, di continuo, e lo facciamo nella scienza. Cioè, prendiamo la teoria, e siccome la teoria è ciò che essa contiene, e ciò che una teoria contiene sono le sue conseguenze, noi prendiamo la teoria e, con la forza della logica, tiriamo giù una cascata di conseguenze. E diciamo, se la mia teoria T è vera, deve darsi la conseguenza P1, P2, P3, Pn. Poi andiamo a vedere se queste conseguenze si danno o no nei fatti. Uso termini fatto in modo ingenuo, intuitivo, diciamo. Se queste conseguenze poggino sui fatti, diciamo che la nostra teoria si legge in piedi o è confermata, comunque sia corroborata. Ma se per il caso, guardate bene, una sola conseguenza urta contro un fatto contrario, la teoria, qui piesso le parole, è logicamente falsificata, dimostrata falsa. C'è infatti, e questa è una base logica dell'intera epistemologia contemporanea, c'è infatti una asimmetria logica tra conferma di una teoria e smintita di una teoria. In che senso? Nel senso che, da un punto di vista logico, e guardate bene con la logica la si scherza poco, e dal punto di vista logico appunto, miliardi di conferme non rendono certa una teoria. Mentre chi vuoi, di voi matematici, sa molto bene che un solfato negativo distrugge logicamente la teoria. Io posso dire, per esempio, che tutti i legni galleggiano in acqua, e posso trovare conferme quanto ne voglio, taglio tutti i pezzi di pioppe di Valpadana, li butto nel po', poi nel nade, dice, meli, fattore tempo, piantiamo altre piante, e otteniamo conferme quanto ne vogliamo, guardate bene. Però basta un pezzo di ebano che è legno, che in acqua affonda, la teoria è falsificata. Io non posso più dire che tutti i legni galleggiano in acqua, devo inventare un'altra teoria, quello specifico, è così che cresce la scienza, dice Popper, per congetture e computazioni, per trial and error, per tentativi appunto ed errori. Infatti si passa dalla Bironisi, poi si passa a Toromeo, ecco in astrofisica, e poi Toromeo, andiamo appunto a Copernico, poi Copernico si ti cobra in mezzo, e poi c'è però, c'è viene fuori Galileo che ha ampio del mondo, e poi c'è Keplero che dal cerchio passa dell'Issi, e poi c'è Newton, e dopo viene fuori Einstein, adesso pare che pure Einstein, con la faccenda del tunnel che va da Cinevra, da Gran Sasso, sia chiesto falsificato. Cioè, quello che cerca il ricercatore serio, evidentemente, quando appunto una teoria, non va a cercare conferme, queste sono le cose più stupide che si possono fare, l'esempio che portava Popper, dice, no, il mare è agitato, ma perché il mare è agitato? Ma perché ne è tu un arrabbiato? E tu come sai che ne è tu un arrabbiato? Ma non vedi come il mare è agitato? Cioè, il problema non è trovare conferme, li possiamo fare quando ne vogliamo, la realtà è trovare le crepe di una teoria, trovare crepe nella teoria, trovare l'errore, e perché è questo? Perché prima uno scienziato, un ricercatore, trova una crepa in una teoria, che può essere di storiografia, può essere di ermeneutica, se lo vedremo, o di fisica, prima si trova una crepa nella teoria, prima si trova un errore e prima la comunità scientifica si trova nell'urgenza di inventare, mettere a prova una teoria migliore, così cresce la scienza, per congetture e confutazioni, per questo fantasia ed errori, diceva sempre il vecchio Popper, l'errore commesso, individuato ed eliminato è il debole segnale rosso che ci porta fuori dalla caverna della nostra ignoranza. E ancora, evitare l'errore è un ideale meschino, se noi ci confrontiamo con un problema difficile, è facile che sbaglieremo. Allora la cosa importante è appunto apprendere dai nostri errori. Conseguenza, razionale, allora, razionale, lo vedremo poi nella scienza carola e nella politica, razionale non è un uomo che voglia avere ragione, quanto è piuttosto un uomo che vuole imparare, imparare dai propri errori e da quelli altrui. Ecco, dicevo, ora un uomo potrebbe dire, adesso se fosse guidare, ma siccome il direttore mi ha detto che devo dire altre cose, allora, voglio dire che voi sapete che c'è stata una lunga discussione, 200 anni di discussione, per dimostrare che in fondo le scienze dello spirito, le scienze dello spirito, stereografia, fideologia, psicologia, storia delle religioni, ecco, sono diverse, ecco, dalle scienze della natura, nelle vecchie università tedesche, le biblioteche, voi andavate in biblioteca e trovate, no, Naturbissenschaften, Geisbissenschaften, cioè c'era una scienza dello spirito, ecco, giurisprudenza, appunto, psicologia, storia, fotografia, eccetera, e c'era poi chimica, fisica, geologia, eccetera. Ecco, ora, questa disputa sul metodo è durata appunto 200 anni, fino, diciamo, in Italia, con croce, diciamo, da Hegel giù giù, Collinwood, cose di seguito, e poi in Germania Winderband, Richard, e poi Weber, eccetera, tutto, perché? Perché si diceva che i prodotti dello spirito umano, no, ciò che c'è, materia, stelle, galassie, no, ma i prodotti dello spirito umano, cioè sistemi giuridici, letteratura, teorie filosofiche, azioni storiche, eccetera, queste cose prodotte dello spirito umano, della mente umana, ha bisogno di un metodo, sono oggetti diversi che ha bisogno di un metodo diverso, qui c'è l'empatia, tutte queste cose qua che sono. Però, oltre a Popper, c'è un altro grande filosofo contemporaneo che si chiama Gadamer. Gadamer è il teorico dell'ermeneutica, vado al noccio della faccenda, perché? Perché Gadamer, in questa teorica dell'ermeneutica, cosa ha dimostrato? Ha dimostrato ciò che i filologi sapevano già, filologi come Lacma, per esempio, come Paul Massa, il nostro Pasquali, eccetera, cioè quando il filologo lavora, o deve interpretare un testo, per esempio, è evidente che il filologo non va davanti al testo con un tavolo rasa, ma ci va, dice Gadamer, con il suo forfer stinti, con la sua precomprensione, cioè con l'insieme dei suoi pregiudizi. E poi cosa fa? Davanti a un testo, Gadamer, l'interprete dell'ermeneuta, dà una prima interpretazione, e Gadamer raggiunge, che poi mette al vaglio sul testo e sul contesto. E se per caso, un pezzo di testo o di contesto, urta contro la mia prima interpretazione, io devo provare una seconda interpretazione, da mettere al vaglio sul testo e sul contesto. Questo è quello che si chiama il circolo ermeneutico. Ma badate bene, quello che fa il filologo, dal punto di vista del metodo, è la stessa cosa di quello che fa il fisico. Cioè, problemi, congetture, controlli, falsificazioni, e nuove teorie. Cioè, ecco quello che dice Popper, tutto il metodo della ricerca razionale funziona in questo modo, problemi, congetture, tentativi di falsificazione. Quindi, dicevo, la scoperta dell'errore, nuova teoria, e così di seguito.